Oggi vi presento le scarpe Golden Gate ATR2, la seconda versione di un modello introdotto un paio di anni fa dall'azienda di Treviso, che rappresenta la soluzione door to trail per ogni tipo di trail runner. Io che sono anche un ciclista mi piace definirle delle scarpe gravel, ossia un modello che possa andar bene sia per correre su asfalto che per correre su starrato, adatto a percorsi poco tecnici ed assolutamente corribile veloci, ma per capirlo meglio come al solito andiamo a provarle. Pesano solamente 255 grammi nella taglia US 9, una scarpa piuttosto leggera e simile come peso più modelli da strada che modelli da trail. Per renderla ancora più fruibile e veloce per la corsa è stata infatti alleggerita rispetto al modello precedente di ben 35 grammi. Il drop della scarpa è rimasto invece lo stesso, 4 mm, con un'altezza da solo di 28 mm nel tallone e 24 mm nell'avampiede. Analizzando la tomaia ritroviamo anche in questo modello la tecnologia EXO di scarpa, ossia l'esoscheletro esterno in materiale termosaldato, che ha la funzione di sostenere e contenere lateralmente il piede. Anche la tomaia è totalmente in materiale plastico, ma assolutamente traspirante perché, come potete vedere, la trama costruttiva è davvero molto ampia. La calzata è abbondante, facilitata anche da questo pull tab. L'avampiede è abbastanza ampio, favorendo la stabilità della scarpa. La scarpa è mediamente imbottita nella zona del tallone, ma molto poco sull'avampiede. La linguetta ha soffietto, assolutamente racing, molto sottile ma sufficientemente rigida per non far sentire la pressione dei lacci. Non ho avuto un ottimo feeling con la calzata perché ho trovato l'allacciatura poco funzionale. Rispetto ad altri modelli di scarpa, questi ATR2 hanno dei lacci molto sottili e piatti che scorrona fatica nelle asole costringendo a tirarli singolarmente. Ho apprezzato molto di più i lacci delle Spin 2.0 e delle Spin Ultra, ad esempio, che sono più corposi e scorrono meglio nelle asole mentre li si tira. Perché un piede stretto come il mio, sia l'avampiede largo che l'allacciatura poco pratica non mi hanno convinto molto. Inoltre nell'avampiede, avendo una tomaia abbastanza larga, si formano queste pieghe che a lungo andare, secondo il mio parere, potrebbero rovinare la tomaia. Il puntale è molto minimale, così come la conchiglia nel tallone è abbastanza morbida e poco contenitiva. Anche sotto questo aspetto le ATR2 ricordano più una scarpa da strada che una scarpa per correre sui sentieri tecnici. Rimanendo nel tallone, notiamo infine come si è imbottito e protettivo per il tentine di Achille per poi scendere e lasciare ampia mobilità alla caviglia. Analizzando poi l'intersuola, in queste Golden Gate ATR2 troviamo una doppia mescola in EVA Bounce Foam, facilmente identificabile anche dalla sua colorazione. Una mescola a media densità di colore azzurro per garantire sostegno e stabilità alla scarpa e sotto di essa di colore bianco. Una mescola a bassa densità per garantire ammortizzazione ed un buon ritorno elastico. Per dar maggiore attività è presente inoltre il sistema di propulsione iRespond che potenzia la fase di spinta amplificando l'energia emessa con un maggior ritorno energetico. L'intersuola rende queste ATR2 assolutamente comode e reattive. Non si percepisce quel senso di pesantezza del passo tipico delle scarpe da trail quando vengono usate per correre su asfalto ma anzi la sensazione di corsa è assolutamente fluida e piacevole. Ai lati della scarpa ci sono poi queste scanalature che agevolano la deformazione controllata della scarpa migliorando nel comfort. Non è presente alcun rock plate facendo risultare le scarpe flessibili agevolando quindi la precisione e la sensibilità del piede a contatto col terreno sottostante. Passando infine alla suola troviamo una mescola presa TRN07. Ritroviamo tutte le caratteristiche della scarpa scritte anche qui sull'intersuola. È una mescola del battistrada che predilige sicuramente la durata piuttosto dura e resistente all'abrasione visto che le Golden Gate ATR2 sono state create per correre anche su asfalto. Queste scarpe hanno già percorso circa 400 chilometri e potete notare come i tasselli siano solo leggermente consumati. I tasselli in origine sono alti 4 mm ed ora dopo 400 chilometri sono alti almeno ancora 3 mm. La conformazione e il disegno dei tasselli è di progettazione scarpa studiati nelle geometrie per dare spinta sui lati, stabilità al centro del piede e per frenare lungo le discese nella zona del tallone. È un battistrada che è un ottimo grip sul terreno asciutto mentre sul bagnato si comporta bene solo sul terreno compatto ma non sul fango. Anche sulle rocce bagnate il grip non è poi così ottimale. Ricordo che comunque sono scarpe gravel per cui è normale che pecchino un po' sul terreno più tecnico. Noterete che sono state create sotto l'avampiede queste piccole zone in cui il battistrada è assente che servono a dare maggior pressione alla scarpa dandoci sempre una sensazione di stabilità e precisione. Vi ricordo che sarebbe amabile da parte vostra se vi iscriveste al canale per non perdervi le mie prossime recensioni e quelle di Tuttle Team 2024. Negli ultimi anni c'è stata una forte espansione del mondo della corsa e del mondo dell'autodoro in generale con tanti nuovi runners che si cimentano su piste ciclabili, strade sterrate, terreni collinari e facili sentieri di montagna. Ecco le Golden Gate ATR2 sono state studiate proprio per questo bacino di utenza per chi vuole una scarpa unica per fare un po' di tutto rimanendo nell'ambito della corsa e non della montagna vera e propria. Se dovessi scegliere se definirle più scarpe da strada che scarpe da montagna dire comunque più scarpe da strada. Le ho provate su sentieri più tecnici e rocciosi e gli sono usciti i loro limiti. Le ATR2 sono poco strutturate, il piede non l'ho sentito così saldo e protetto ma d'altronde la scarpa perfetta non è ancora stata inventata. Le Golden Gate ATR2 rimangono per definizione una scarpa door to trail. Il difetto principale di questa scarpa secondo me rimane nell'allacciatura che rende difficoltoso il corretto serraggio del piede. Se aggiungiamo poi che il tallone è poco strutturato, l'avampiede abbastanza ampio, la tomaia piuttosto larga, devo ammettere che durante le prime uscite ho sentito il piede muoversi un po' troppo all'interno della scarpa. A non fare scivolare il piede ha aiutato invece la soletta, orto light, comoda e robusta, non estraibile però. Queste scarpe sono adatte ad un'ampia fascia di pubblico, grazie alla loro ammortizzazione possono soddisfare corridori che pesano oltre gli 80 kg e possono essere utilizzate anche per lunghe distanze. Grazie alla loro reattività possono soddisfare runners che spingono ritmi anche sotto i 4 km. Sono adatte a chi cerca una scarpa unica correndo a volte su asfalto, a volte su sterrato, a volte su sentieri, oppure unendo nella stessa corsa diversi tipi di terreno. Sono adatte all'agonista che corre gare corribili poco tecniche come la Chianti Trail, la Tuscany Crossing, la Valtellina Wine Trail e tutte quelle gare corribili e veloci. Per chi volesse acquistarle consiglierei di prendere lo stesso numero che usate solitamente. Il prezzo di listino sul sito scarpa è di 165 euro ma sebbene siano appena uscite sul mercato è possibile trovarle già scontate del 10-15%. È comunque una scarpa che garantisce numerosi chilometri. In conclusione se vi piace correre anche forte su ogni tipo di terreno ma non volete una scarpa per ogni tipo di terreno. Se volete provare una scarpa polivalente sia per tipologia di percorso che di ritmo oppure se dovete disputare gare veloce corribili su sentieri collinari e poco tecnici allora vi consiglio di acquistare questa scarpa. Non ho più nulla da aggiungere su queste scarpa Golden Gate AT-R2. Probabilmente uscirà anche la versione GTX in Gore-Tex come per la versione 1. Questo però lo dovete chiedere a Marco De Gasperi. Io vi ho raccontato tutto sempre con la massima onestà intellettuale. Se vi è piaciuta la recensione mettete un like e scrivetemi qua sotto i vostri commenti. A voi come al solito auguro buone corse e ricordate più cuore che gambe.